La ricostruzione post-sisma nell'edilizia residenziale pubblica, un modello virtuoso quello dell'Aquila con progetti pilota per riqualificare interi quartieri. Se ne è parlato in un momento di approfondimento nazionale promosso dall'Ater l'Aquila che ha ospitato per due giorni la giunta esecutiva di FederCasa tra le altre cose. Un Ater che ha cambiato passo pensando anche ad un nuovo modo di abitare lasciandosi alle spalle il vecchio concetto di casa popolare. L'emergenza dell'Aquila è stata portata all'attenzione dell'Italia intera grazie all'intervento di FederCasa che è la federazione delle case popolari di tutta Italia. Oggi sono rappresentate tutte le Ater d'Italia che sono venute a vedere il fenomeno l'Aquila, quello che è successo, quello che è stato fatto e quello che si può fare di meglio. È inutile negarsi che la sinergia tra i contributi statali per la ricostruzione e il super bonus sono il volano per far ripartire l'economia e soprattutto l'azienda territoriale dell'Aquila, la quale ha una premura e un obiettivo principale che è quello di riqualificare i quartieri ma soprattutto riqualificare le città. Il paradosso che vogliamo sviluppare è che le case popolari possono riqualificare un intero centro abitato, un'intera città. FederCasa associa in Italia 81 enti di edilizia residenziale, circa 7.000 dipendenti e dirigenti che gestiscono in totale 800.000 abitazioni per oltre 2 milioni di persone. Un'occasione di confronto per mostrare ciò che è stato fatto all'Aquila nel post-sisma ma anche per lanciare nuove sfide e affrontare problematiche a livello normativo che ancora ci sono. Tanti temi trattati nel corso del convegno che è stato anche occasione per parlare della riforma del codice degli appalti ma anche delle difficoltà che incontrano a volte gli interventi di ricostruzione e la disciplina del super bonus. I problemi dell'edilizia residenziale pubblica in Italia sono ben noti, abusivismo, morosità, mancata manutenzione, incremento degli alloggi svitti e supporto sociale inadeguato aumentati a causa della pandemia. C'è assenza del tema casa nel governo Meloni. Diciamo che abbiamo capito che c'è l'esigenza assoluta di mettere ai tavoli governativi il problema dell'edilizia pubblico in Italia. Abbiamo scoperto ieri e credo da un decreto che sta per uscire ieri sera da una notizianza che ho letto che per esempio sul tema del super bonus 110 probabilmente si arretra il 90% e questo significa per noi, per il nostro sistema un danno importantissimo di milioni di euro oggi per quello che è lo stato di fatto è l'essere, gare in atto, scadenze, ma soprattutto non si guarda secondo noi con una visione nei prossimi anni a quello che è la rigenerazione urbana che viene chiesta e questo in qualche modo ci dava l'opportunità e l'ossigeno dal punto di vista di bilanci di cercare di mettere a posto anche dal punto di vista energetico il grandioso patrimonio che abbiamo in Italia.